Anche Raffaele Fitto, candidato presidente alla Regione Puglia per il centrodestra ed esponente di Fratelli d'Italia, ha partecipato presso il Nautilus alla presentazione dei candidati della lista per la provincia di Taranto. Assieme a Fitto hanno partecipato il coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni, Marcello Gemmato, il capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida, l'onorevole Tarantina Ilenia Lucaselli, la dirigenza Ionica, oltre ai sette candidati Francesca Re, Giovanni Luigi Maiorano, Renato Perrini, Agostino Perrone, Domenico Giovanni Pilolli, Mario Rigo, Giampaolo Vietri. Sicuramente Fratelli d'Italia è il mio partito, è il partito che ha creduto più di chiunque altro alla mia candidatura, però penso che sia importante sottolineare anche come oltre al lavoro, alla convinzione, alla posizione di Giorgia Meloni si sia aggiunto poi un sostegno vero, forte di tutti i partiti della coalizione. La nostra coalizione è veramente compatta, è una coalizione che ha discusso al suo interno non poco e che ha raggiunto poi questa unità vera che rappresenta un punto di forza importante, soprattutto per dare credibilità al nostro programma. Noi siamo reduci da anni di governo nel quale si è più deciso di distribuire prebende e favori che affrontare i problemi. Siamo a Taranto, dove nei prossimi giorni articoleremo una presentazione anche specifica sulle grandi questioni programmatiche, sui grandi problemi di Taranto a partire dall'Ilva, ma penso che sia importante già dire e chiedere qual è una infrastruttura media realizzata in questa città in questi ultimi anni, purtroppo in questa provincia non ce ne sono. E anche Taranto è la città delle contraddizioni di questo governo nazionale che vengono riportate a livello regionale e che impediscono il rilancio di questa città e anche di questa regione. Serve coerenza, serve un'onicità di impegno e in questo il centrodestra si distingue dai suoi avversari che invece sono divisi in mille rivoli e incapaci di presentare progetti che abbiano una coerenza di livello comunale, regionale e nazionale. Così è impossibile trovare soluzioni. Per questo Raffaele Fitto come governatore, Fratelli Italia come partito, possono essere un riferimento di coerenza, di coraggio, di lealtà verso il proprio popolo e la propria gente.